Domanda 3, considerando la similitudine dei triangoli rettangoli ACL, ACL è questo, EALM, e ricordando il significato geometrico di derivata, verifica che l'ordinata D del centro della ruota si mantiene costante durante il moto, cioè indipendente da X, cambiando X la ruota comunque si mantiene, mantiene il suo centro ad altezza costante. Quindi il baricentro della ruota, cioè della bicicletta, non si alza né si abbassa e quindi si ha l'impressione di muoversi su una superficie piana, perché non si deve né salire né scendere con il baricentro.